Musica Allora, Lucia Fiume, sono presidente dell'Associazione della Canzone e della Musica d'Autore quest'anno Umbria Eventi d'Autore vedrà sei importantissimi appuntamenti a partire dal NEC al Teatro Mancinelli di Orvieto e poi a proseguire con due grandi eventi al Palasporto Evangelisti di Perugia Max Berzani e Inegramani Poi ancora, tre, agli ultimi appuntamenti al Teatro Liriche di Assisi, Manica Iana, Di Gohan e Max Giusti, comico d'autore Qui ho cantato a me l'assessore della cultura del Comune di Assisi, Serena Musica Buongiorno, grazie, per me è stato veramente un onore partecipare per il secondo anno consecutivo alla conferenza stampa di presentazione La città di Assisi c'è e vuole, intende, riconfermare il massimo supporto anche quest'anno perché insieme al direttore artistico del Teatro Liriche, Paolo Cardinali l'Associazione Umbra riesce ad integrare, offrendo date di grande qualità il cartellone della stagione culturale del Teatro Liriche questo significa ampliare non solo l'offerta culturale ma parimenti il target di pubblico grazie a queste proposte al Teatro Liriche parteciperanno sicuramente nuovi giovani un applauso sicuramente molto sentito, voglio rivolgerlo a questa associazione per aver coinvolto l'Istituto Alberghiero di Assisi che è un'eccellenza del nostro territorio quindi è importante sottolineare come la cultura possa essere grande veicolo anche per palesare quello che è il capitale umano dei nostri giovani studenti dei nostri giovani cittadini, quindi quest'anno questa importante novità è un grandissimo valore aggiunto, quindi ringrazio la dottoressa Fiumi che è anche in qualità di grande docente del nostro istituto alberghiero un ringraziamento lo rivolgo ovviamente alla preside Tagliaferri che ha accolto questo invito quindi collaborare associazioni, istituzioni e quindi la città di Assisi ma anche istituzioni scolastiche significa mettere a frutto una grande progettualità e un'ottimizzazione delle risorse, cosa ovviamente imprescindibile in un periodo come quello attuale quello che stiamo vivendo ormai da anni ma questa collaborazione che si riconferma e che cresce mi auguro che abbia appunto un trend crescente di pubblico e di critica per poter permettere una crescita individuale e collettiva quindi del nostro territorio e dei territori limitrofi il Teatro Lyric è un teatro che ha un pubblico vasto, non solo regionale quindi ecco grazie anche all'associazione Umbra della musica e della canzone d'autore possiamo dare maggiore offerta culturale e è quello che vogliamo mettere in campo di anno in anno nonostante le difficoltà economiche ecco quindi la città di Assisi c'è anche quest'anno e voglio ringraziare anch'io loro per aver proposto anche quest'anno date importanti di grande livello culturale sia a livello di concerti che comico d'autore e ringrazio anch'io quindi di nuovo l'assessore Morosi e arrivederci al primo appuntamento l'11 ottobre a Orvieto Connect Grazie a tutti Grazie a tutti